In ogni istante, nelle nostre città, vengono pubblicati migliaia di messaggi sui social network. Sono i nuovi spazi pubblici che abbiamo imparato ad utilizzare per lavorare, per esprimerci, per prendere decisioni e per collaborare. Con l'assessorato alla cultura del primo municipio della città di Roma, abbiamo creato ECM1, l'ecosistema della cultura. Ascoltando in tempo reale la comunicazione pubblica sui social network, visualizziamo dove si parla di cultura, come comunicano operatori e cittadini, quali relazioni e collaborazioni intratteniamo tutti per creare la vita culturale della città. Oltre ad essere visualizzati, i dati verranno anche rilasciati sotto forma di open data, così da essere accessibili a tutti. Un nuovo modo di percepire la città e di lavorare insieme.